Signore e signori, il mio nuovo è di riprendata 3 Oggi sono qui per farmi una semplice domanda Che cazzo è? Edge Scopriamolo insieme Andiamo, sfida Edge, nuova partita Oh, forse devo Vedere le istruzioni prima Ok Ah, solo con il zuccino Ok 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 Siamo giocati con il joystick, scopriamolo Sì Ok, il joystick Non è esattamente semplice e subito da comprendere Essendo che è isometrico Oddio What Andiamo No, è subito semplice da comprendere l'orientamento dei pulsanti Playground Playground La musica è veramente bella Cioè Personalmente mi piace molto Questa è una specie di bonus Qualcosa la Morto zero Poi c'è da Poi c'è da Poi c'è da Poi c'è da What è più semplice di quanto sembri non sono io che sono un nob totale cioè si sono anche un nob totale però e anche questa tutta questa strana l'interfaccia isometrica e beh cioè grazie eh interessante mi piace come gioco non l'avevo ancora provato l'avevo preso e anche questo nel cube pack in realtà è un gioco strategico in realtà è una specie di di platform ok non chiedetemi cosa sono ecco non chiedetemi cosa sono i numeri perchè non ho idea potete buttarmi giù va simpatia ok ok ecco sono un nob perchè sono un nob ah costruito molto bene il motore fisico è fatto molto sto bene e un altro qua ben costruito al momento tra l'altro gioco in sconto quindi invece di prezzo pieno che sono 7 euro mi costa solo mi costa solo 3,50 mi sconto il 50% mi sconto il 50% mi sconto il 50% e quindi secondo me è un ottimo prezzo 3,50 questo è un po' sembra un vero ben costruito più di quanto pensassi non ho capito cosa è ah beh quindi mmm mmm va bene aia il sistema dei checkpoint è anche costru... aia costruito molto bene le musiche ripeto secondo me meritano davvero questo gioco nooo tranquilli sto bene sto bene è un ultimo livello sta veramente vaffanculo la telecamera tutto è fatto molto bene questo gioco tutto è curato adesso sono i stessi creatori di i stessi creatori di tocchitori quindi quindi non si posso aspettare hop non è cosa che è molto semplice cadere più di quanto si può sapere sembra molto più difficile di quello che è in realtà no guardate ottimo gioco non ho niente da dire ve lo consiglio è molto ben curato la musica molto bella la grafica è caratteristica costa 3,50 in sconto cosa aspettate aprile steam e prendetelo veramente un bel gioco grazie a tutti per aver visto il video se vi è piaciuto mettete mi piace se volete aiutarmi mettete questo video tra i preferiti ricordatevi di iscrivervi al canale e di seguire la serie con il prossimo video ci vediamo ciao 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 ciao